Di prezzi imposti non si può più parlare, il mercato è libero, ognuno deciderà cose come meglio fare. Una cosa che tengo a precisare, già dal gennaio ci sarà un punto vendita nella stazione marittima dedicato ai croceristi. Trieste è ormai diventata città di meta turistica assolutamente importante quindi ci sembrava corretto per far conoscere i quattro prodotti, recarci direttamente nel punto di partenza e di sbarco quindi chi meglio della nave di crociera dà questa opportunità. quindi in stazione marittima troveremo come primo punto in vendita cumulativo delle 12 imprese i quattro prodotti certificati.